Sono una mamma italiana di 35 anni, ho due bimbi e ho conosciuto Specchio dei Tempi tramite internet perché ero in una situazione un po' difficile con la casa, perché il 31 marzo adesso mi scade un contratto di affitto non lavorando, non ho modo di trovare nient'altro e quindi nella disperazione mi sono messa su internet a cercare un po' di aiuti per le mamme ed è venuto fuori Specchio dei Tempi con questo progetto di Forza Mamme. Mi sto trovando molto bene perché a parte le educatrici che ci sono, che sono proprio delle persone straordinarie disponibili ci stanno dando la possibilità anche di fare dei percorsi per appunto imparare anche un po' come risparmiare come gestirci un po' anche i soldi tutti i giorni e oltre questo ci stanno dando anche un aiuto economico molto importante insomma tutte cose che sono utili sia a noi mamme che ai nostri bimbi. Mi è stata data la possibilità anche di prendere parte a un progetto con una psicologa che mi sta dando un grosso aiuto perché avere comunque un qualcuno con cui parlare dei propri problemi sfogarsi, non sempre solo nel nucleo familiare, devo dire che è di grosso aiuto. Volevo invitare tutte le mamme che sono in difficoltà e che magari si sentono perse a rivolgersi direttamente a Specchio dei Tempi perché come ha fatto con me sono sicura che potrà dare un grosso aiuto anche a voi. Grazie.